Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma adesso ci sono 3 km di coda per un incidente tra mezzi pesanti, avvenuto al km 266 e 500 in galleria tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla FIPILI si segnalano rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, in entrambe le direzioni. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Sempre per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!